Voci.fm, il sito delle voci. Luca Ward, voce narrante in Ulisse Il piacere della scoperta, come è nata questa cosa e che cosa narrerai? Credo sia nata in realtà dalla Rai, da Alberto, passando il passaggio sul Rai 1, forse ci tenevano particolarmente ad avere un modo di raccontare magari un po' diverso da quello solito. Io ho cercato di fare un racconto che è un po' una via di mezzo tra l'attore e l'insegnante. Ho scopiazzato un po' da Alberto perché sono un suo fan, seguo le sue trasmissioni da sempre con i miei figli e ho fatto un po' un po', un misto. Adesso vediamo poi il risultato, il decreto lo darà il pubblico. Senti, questi programmi di cultura, questi programmi che divulgano la cultura anche di sabato sera su Rai 1, che cosa ne pensi? Dai risultati penso che ce ne sia estremamente bisogno. Non è vero che il pubblico si prenda quello che gli dai, perché l'ho sentito dire tante volte e proprio non ne sono assolutamente convinto. Veniamo da un paese, siamo, apparteniamo ad un paese storicamente ricchissimo e quindi inevitabilmente la storia poi ci affascina. Anche se magari a scuola abbiamo studiato poco, non importa, però ci affascina. Che cosa racconterai in particolare? Sarà in tutte le puntate, in tutte e quattro le puntate oppure in una soltanto? No, allora, le puntate, io sono in tutte e quattro le puntate. Poi Alberto carinamente mi ha chiesto anche una partecipazione in video, che sarà la puntata dedicata, non a caso, al Colosseo. E quindi questa è una cosa che mi riempie di gioia. Collezionando tutti i documentari a casa, così i miei figli potranno dire che anche il papà ha partecipato a questi programmi così prestigiosi, così belli. Voci.fm, mi seguite sempre? E allora vi abbraccio e vi saluto dal Foro Romano. Ciao. Voci.fm, il sito delle voci.